Marilungo, c'è la Vispesaro, l'occasione giusta per provare il primo mini a lungo in classifica? No, secondo me non possiamo già parlare di mini a lungo perché è appena iniziato, quindi dobbiamo pensare a questa partita come una partita difficile perché le squadre adesso si stanno tutte quante conoscendo, quindi ogni partita può essere insidiosa, quindi dobbiamo affrontare la Vispesaro con la testa giusta e riuscire a fare i tre punti. Tu che hai tanta esperienza, che partita ti aspetti? Sicuramente mi aspetto una partita dura perché in questa categoria sono tutte partite difficili, quindi dobbiamo cercare subito dall'inizio da portarla dalla nostra parte e poi cercare di commettere meno errori possibili. Tu sei uno dei nove attaccanti potenziali titolari di questa squadra, si è parlato di questo grande numero di giocatori a disposizione di Auteri in quel reparto, come la vedi tu la situazione? La situazione sono cavoli del mister, tra virgolette, in attacco siamo tanti, secondo me siamo tutti bravi, quindi il mister può scegliere parecchi giocatori, dobbiamo farci tutti trovare pronti quando il mister ci chiama. Nel secondo tempo contro Rancona hai fatto una grandissima partita, sei stato determinante a mio giudizio, però a Carrara i tre cambi, tutti e tre degli attaccanti all'intervallo, non ti hanno riguardato, ti è dispiaciuto un po'? Sicuramente mi è dispiaciuto, se dico di no mentirei, ma penso come gli altri tutti vorremmo giocare. Quindi come ripeto dobbiamo farci trovare i punti perché quando il mister ci chiama dobbiamo far bene per ognuno conquistarsi il suo piccolo posto. Ti chiedo l'ultima cosa, nel tridente di Autari se potesse scegliere Marilungo il suo ruolo preferito? No, sinceramente non ne ho uno preferito, per me vanno bene tutti.